Il mercato dell'auto in Europa corre. A giugno più di 1,2 milioni le immatricolazioni, pari a più 18,7% su giugno 2022. Il primo semestre di quest'anno si chiude con oltre 6,5 milioni di immatricolazioni, più 17,6% sullo stesso periodo 2022. Impennata per le auto elettriche, a giugno quasi 160 mila le immatricolazioni, più 66,2% su giugno 2022, con una quota di mercato passata dal 10,7% al 15,1%.